risalimmo sul ponte subito dopo la cena davanti a noi il mediterraneo non aveva un'increspatura su tutta la parte visibile barezzata di luna il grande piloscopo continuava la sua rotta gettando nel cielo seminato di stelle un gran serpente di fumo nero dietro di noi l'acqua bianchissima mossa dal veloce passaggio del bastimento battuta dall'elica era tutta una spuma sembrava s'avvolgesse su se stessa provocando innumerevoli scintillii simili al bollore di una liquida luce di luna in sei o sette ce ne stavamo lì in silenzio e pieni di ammirazione con lo sguardo rivolto verso l'africa ancora lontana e dove ci stavamo dirigendo il comandante che stava fumando un sigaro in mezzo a noi all'improvviso riprese una conversazione che era incominciata durante la cena già quel giorno ho avuto paura per sei ore la mia nave era rimasta con quello scoglio conficcato dentro battuta dal mare in continuazione verso sera per fortuna fummo raccolti da una carboniera inglese che ci aveva avvistati un uomo alto col viso abbronzato e l'aspetto serio una di quelle persone che devono aver attraversato grandi paesi sconosciuti tra continui pericoli e il cui occhio sereno sembrava conservare qualche cosa nella sua profondità degli strani paesaggi che ha veduto un uomo insomma ben temprato dal coraggio entrò allora per la prima volta nella nostra conversazione comandante lei dice di aver avuto paura non lo credo forse equivoco sulla parola o forse sulla sensazione che ha provato un uomo coraggioso non ha mai paura nell'incombere di un pericolo è emozionato agitato nervoso ma la paura è un'altra cosa il comandante replicò ridendo accidenti e invece le garantisco che ho avuto paura allora l'uomo abbronzato aggiunse parlando con estrema lentezza mi permetta di spiegarmi la paura anche gli uomini più coraggiosi possono provarla è un sentimento orrendo una sensazione atroce simile alla decomposizione dell'anima uno spasimo spaventoso del pensiero del cuore il cui semplice ricordo provoca brividi d'angoscia ma quando si è coraggiosi di natura questo non avviene né davanti a un attacco pericoloso né davanti a una morte inevitabile né davanti a tutte le forme note del pericolo a luogo in circostanze anormali sotto certe influenze misteriose di fronte a rischi indefiniti la vera paura è simile al ricordo dei terrori fantastici d'un tempo un uomo che crede ai fantasmi e che si immagina di scorgere uno spettro nella notte lui sì che proverà la paura in tutto il suo orrore io ho intuito che cos'era la paura in pieno giorno circa dieci anni fa l'ho provata l'inverno scorso durante una notte del mese di dicembre eppure mi ero trovato in frangenti e in avventura che parevano mortali ho combattuto spesso sono stato lasciato per morto dai banditi sono stato condannato all'impiccagione come insorto in america e gettato in mare aperto dal ponte d'una nave in cina ogni volta mi sono creduto spacciato e mi sono rassegnato subito senza commozione e anche senza rimpianti ma questa non è la paura io l'ho presentita in africa eppure essa è figlia del nord il sole la dissipa come una nebbia fate attenzione a questo signori per gli orientali la vita non conta niente si è subito rassegnati le notti sono chiare senza le cupie inquietudini che opprimono gli uomini dei paesi freddi in oriente si può conoscere il panico si ignora la paura ebbene ecco quel che mi è accaduto in terra d'africa attraverso le grandi dune a sud di Orgla è uno dei più strani paesi della terra voi conoscete la sabbia distesa la sabbia delle interminabili spiagge oceaniche adesso figuratevi che l'oceano sia diventato sabbia in mezzo a un uragano immaginatevi una tempesta silenziosa di immobili onde di polvere gialla sono alte come montagne queste onde ineguali e diverse sollevate in alto come cavalloni ma ancora più grandi e striate come un'immensa pezza di amoerro su questo mare furioso muto e apparentemente immobile il divorante sole del sud sparge la sua fiamma implacabile e diretta bisogna oltrepassare queste onde di cenere dorata ridiscendere e ancora salire salire senza sosta senza riposo e senza ombra i cavalli rantorano sprofondano fino al ginocchio e poi si lasciano scivolare quando raggiungono l'altro versante di queste sorprendenti colline eravamo due amici seguiti da otto spice e da quattro cammelli coi loro guidatori non parlavamo oppressi dall'afa dalla stanchezza inariditi dalla sete come quel deserto ardente improvviso uno dei nostri uomini lanciò uno strano grido tutti si fermarono e restammo senza muoverci sorpresi da un fenomeno inesplicabile conosciuto solo da chi viaggia in quelle sperdute contrade chissà dove eppure vicino a noi da una direzione che non si riusciva a determinare rullava un tamburo il misterioso tamburo delle dune rullava distintamente ora più ora meno vibrante interrompendosi ogni tanto ma subito dopo riprendendo il suo ritmo fantastico gli arabi spaventati si guardarono tra loro e uno disse nella sua lingua sopra di noi c'è la morte ed ecco che all'improvviso il mio compagno e amico più che un fratello per me cadde da cavallo a testa in giù fulminato da una insolazione e per due ore mentre cercavo inutilmente di salvarlo quel tamburo misterioso mi eccheggiò nelle orecchie col suo ritmo monotone intermittente e incomprensibile io sentivo insinuarsi nelle ossa il terrore la vera paura la paura schifosa davanti a quel cadavere in quella buca incendiata dal sole tra quattro montagne di sabbia mentre un'eco sconosciuta ripercuoteva contro di noi a duecento leghe da qualsiasi villaggio il rullo veloce del tamburo quel giorno compresi che cosa sia aver paura e lo sappia anche meglio un'altra volta il comandante interruppe il narratore scusi signore ma quel tamburo che cos'era? non ne so nulla nessuno lo sa gli ufficiali sorpresi da quel rumore singolare mi attribuiscono la causa a un'eco ingrandita smisuratamente ampliata dagli avvallamenti delle dune e prodotta da una grandinata di grani di sabbia trasportati dal vento a urtare contro qualche ciuffo d'erba secca poiché si è osservato che il fenomeno si produce sempre vicino a certi arbusti arsi dal sole e duri come cartapesta e dunque quel tamburo non sarebbe che una sorta di miraggio un miraggio sonoro tutto qui ma questo lo seppi soltanto più tardi vengo alla mia seconda emozione accadde l'inverno scorso in un bosco della Francia nord-orientale la notte era scesa con due ore d'anticipo tanto scuro era il cielo e in un sentiero molto stretto avevo per guida un contadino che camminava al mio fianco sotto una cupola di abeti le cui un vento scatenato traeva lunghi lamenti fra le cime dei monti distinguevo correre nuvole in grotta certe nuvole impazzite che sembrava scappassero incalzate dal terrore a tratti tutto il bosco sembrava inclinarsi con un gemito di sofferenza sotto una raffica di vento molto forte il freddo mi passava da parte a parte nonostante il passo rapido e le vesti pesanti dovevamo andare a cena e fermarci a dormire da una guardia forestale la casa non era molto lontana da lì e io ci andavo per cacciare di quando in quando la mia guida alzava gli occhi e borbottava diavolo d'un tempaccio poi mi parlò della famiglia che ci avrebbe ospitato il padre aveva ucciso un bracconiere due anni prima e da allora era sempre cupo come se fosse ossessionato da quel ricordo i suoi due figli entrambi sposati vivevano con lui le tenebre erano profonde non vedevo niente davanti a me né intorno a me tutto il frascame degli alberi si urtava in continuazione e riempiva la notte di un continuo fruscio finalmente scorsi una luce e subito il mio compagno bussava a una porta come risposta arrivarono acute grida di donne poi una voce maschile una voce rauca domandò chi è? la mia guida disse il suo nome entrammo mai dimenticherò quel che vidi un vecchio dai capelli bianchi dall'occhio folle con un fucile calico in mano ci aspettava in mezzo alla cucina mentre due giovanotti armati di scure erano di guardia ai lati della porta negli angoli oscuri in fondo alla stanza distinsi due donne inginocchiate col viso rivolto verso il muro demmo le spiegazioni necessarie il vecchio riappoggiò il fucile alla parete e ordinò che mi fosse preparata una stanza ma poi visto che le due donne non si muovevano dette questa brusca spiegazione sa signore sono due anni stanotte da quando ho ammazzato un uomo l'anno scorso è venuto a chiamarmi e così l'aspetto anche questa notte concluse con un tono che provocò il mio sorriso ecco perché non siamo tranquilli fece del mio meglio per rassicurarlo ero felice ad essere arrivato proprio quella sera e di poter assistere a quello spettacolo di terrore superstizioso mi misi a raccontare qualche storiella e così mi riuscì di calmare almeno un poco tutta la famiglia accanto al focolare un vecchio cane mezzo cieco e baffuto uno di quei cagnazzi che somigliano a qualcuno di nostra conoscenza dormiva col muso tra le zampe una tempesta senza requie percoteva il casolare e da un finestrino stretto stretto proprio uno spiraglio accanto alla porta vedevo alla luce dei lampi un gruppo di alberi scompigliato dal vento nonostante tutti i miei sforzi percepivo chiaramente che un profondo terrore dominava gli animi di quelle persone una volta che smettevo di parlare tutte le orecchie si tendevano verso un punto molto lontano stanco di assistere a quei vani spaventi stavo per chiedere di andare a dormire quando la vecchia guardia forestale balzò improvvisamente dalla sedia e riafferrò il fucile sussurrando con evidente smarrimento eccolo eccolo lo sento le donne tornarono a inginocchiarsi nel loro angolo nascondendo il viso i figli impugnarono di nuovo le scuri mi preparavo a calmarli ancora una volta quando d'improvviso si risvegliò il cane addormentato e tendendo il collo verso il fuoco e guardandolo con l'occhio quasi spento emise uno di quei lugubri ululati che la sera spaventano in campagna i viandanti tutti ci volgemmo a guardarlo era rimasto immobile ritto sulle zampe come in preda una visione poi cominciò a urlare verso una cosa invisibile e spaventosa perché tutto il pelo gli si era rizzato rivido in volto la guardia gridò lo sente? lo sente? mi ha visto ucciderlo anche le due donne si misero a urlare come forse nate all'unisono col cane mio malgrado un brivido mi corse tra le spalle lunghissimo la visione di quell'animale a quell'ora e in mezzo a quella gente terrorizzata era spaventosa per un'ora intera il cane urlò senza muoversi come nell'angoscia di un sogno premonitore la paura la schifosa paura mi invase paura di che cosa? lo sapevo forse? era la paura tutto qui i nostri visi erano violacei nell'immobilità e nell'attesa di qualcosa di tremendo con l'occhio teso il cuore in tumulto sempre più sconvolti a ogni minimo rumore il cane si mise a girare attorno alla stanza fiutando i muri e continuando a mugolare quella bestia ci faceva impazzire allora il contadino che mi aveva fatto da guida in una specie di parossismo furibondo gli si lanciò addosso la ferrò e lo getta fuori in un cortiletto interno il cane tacque di colpo noi rimanemmo immersi in un silenzio ancora più terrificante l'improvviso sussultammo tutti insieme qualcuno strisciava contro il muro esterno dalla parte del bosco poi passò verso la porta sembrò sfiorarla con mano tremula per due minuti non sentimmo più alcun rumore due minuti che ci portarono alla soglia della demenza quindi quella presenza misteriosa tornò a sfiorare il muro e grattò leggermente come farebbe un bambino con l'unchia ad un dito all'improvviso apparve contro il vetro del finestrino una testa bianca con occhi luminosi come quelli delle belve e dalla bocca uscì un suono indistinto un mormorio lamentoso fu un attimo un fragore improvviso rimbombò nella cucina il vecchio guardia boschi aveva sparato e subito i figli si precipitarono tapparono lo spiraglio rizzandovi contro il grande tavolo che poi puntellarono con la credenza vi giuro che allo scoppio della fucilata che non m'aspettavo ebbi una tale angoscia nel cuore nell'animo e nel corpo che mi sentii mancare prossimo a morire di terrore restammo così in attesa sino all'aurora incapaci di muoverci di dire una sola parola contratti da un orrore senza nome osammo rimuovere la barricata soltanto quando scorgemmo dalla fessura ad un'imposta un pallido raggio di luce ai piedi del muro contro la porta giaceva il vecchio cane col muso sfracellato dalla fucilata era uscito dal cortiletto scavandosi un varco sotto la palizzata l'uomo dal volto abbronzato d'acqua poi soggiunse quella notte non corse alcun pericolo eppure preferirei rivivere tutte le ore nelle quali ho affrontato situazioni davvero terribili piuttosto che il solo istante di quella fucilata sparata contro la testa villosa apparsa nello spiraglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti